Per il patrimonio scolastico della provincia Barletta-Andriatrani è prevista una pioggia di interventi per oltre 37 milioni di euro con l'obiettivo di riqualificare gli istituti scolastici superiori, esigenza ormai divenuta improcrastinabile. È stato approvato il piano triennale delle opere pubbliche per il triennio 2015-2018. Quasi 38 milioni di euro sono le risorse economiche programmate dalla provincia di Barletta-Andriatrani nell'ambito del piano delle opere pubbliche per il triennio 2015-2018 per gli interventi sul patrimonio scolastico di propria competenza. Il provvedimento è stato approvato dal presidente della provincia di Barletta-Andriatrani, Francesco Spina. Nei prossimi giorni sarà sottoposto al parere del Consiglio provinciale. Ai 12 milioni di euro già stanziati per il primo anno, con l'elenco annuale per l'esercizio 2015, si aggiungono ora i 16 milioni di euro stimati per il 2016 e 10 milioni di euro per il 2017. Una pioggia di interventi che toccherà tutte le città della provincia. Tra gli interventi previsti per il 2015, ad Andriatrani lavori per un importo pari a 4 milioni di euro circa, a Barletta 2 milioni e 3, a Biceglie 1 milione e 6, a Canosa 800 mila euro, a Minervino 250 mila, a San Ferdinando di Puglia 1 milione e 200 mila euro, a Trani 125 mila euro. Per il 2016 invece ad Andriatrani sono previsti lavori per un importo pari a 4 milioni e 8, a Barletta 2 milioni e 2, a Biceglie 2 milioni di euro, per Canosa 1 milione e 300 mila euro, a Minervino Murge 500 mila euro, a San Ferdinando di Puglia 65 mila euro di lavori, a Spinazzola lavori per 800 mila euro, a Trani 1 milione e 850 milioni di euro, a Trinitapoli 150 mila. Per il 2017 ad Andriatrani 2 milioni e 2, a Barletta circa 3 milioni di euro, a Canosa di Puglia 1 milione e 500 mila euro, a Trinitapoli 500 mila euro. La provincia di Barletta-Andriatrani non solo non rinuncia alle proprie competenze in materia di dirisi scolastica, ma anzi mette a disposizione del territorio ben 12 milioni di euro di lavori che saranno eseguiti per il solo anno 2015 sul patrimonio scolastico del territorio, ha affermato il presidente Spina. A questi si aggiungono i 15 milioni di euro programmati per il 2016 e i 10 milioni di euro programmati per il 2017, per i quali si attende ora la definizione del trasferimento delle risorse dal governo centrale e dalla regione. Nonostante le difficoltà economiche con cui siamo costretti a far fronte, conclude Spina, con questo provvedimento, che a breve passerà al vaglio del Consiglio provinciale, offriremo ai nostri giovani strutture più salubri e qualificate in cui formarsi.